Il Centro di Produzione Teatrale Catanese d'Avanguardia ha riaperto le porte del Giardino Pippo Fava di Catania, dove è andato in scena lo spettacolo I Deboli, novità inedita di Nino Martoio, realizzata da Fabbrica Teatro in collaborazione con il LACUT, Centro Universitario Teatrale. Lo spettacolo è inserito all'interno del terzo ed ultimo anno di celebrazioni organizzate dal Comitato Martoio in occasione del centenario della morte del commediografo siciliano. Il progetto varcherà i confini siciliani l'11 ottobre, quando sarà rappresentato presso il Museo Biblioteca dell'attore di Genova. Lo spettacolo andrà in scena ogni sera fino alla 10 settembre in via Caronda a Catania. Abbiamo avuto un pubblico estremamente giovane e questo era l'intento iniziale della relazione che dal Comitato Martoio attraverso Fabbrica Teatro poi ha coinvolto anche il Centro Universitario Teatrale. Il nostro scopo principale era proprio quello di fare interpretare e comunque diffondere, promuovere il lavoro di Nino Martorio, questo suo straordinario eclettismo e soprattutto questa sua carriera teatrale fatta, vissuta al nord, con dei testi in italiano ed era davvero questo il compito che ci davamo, cioè veicolare Nino Martorio alle generazioni dei giovani di oggi.